Salve amici benvenuti o bentornati nel mio canale E oggi vi saluto con questo video su Dragon Ball Legends Perché oggi andremo a fare la coop con il carissimo Tapion Che stamattina l'ho portato a 5 stelle Poi vi ci porto lo sciocchista a 5 stelle perché è tanta roba raga E oggi lo andiamo a analizzare appunto nella coop Perché dobbiamo fermare un bel po' di medagliette Certo non le farmerò tutte in questo video perché sennò finiamo dopo domani Ma piano piano le farmerò perché mi servono mille medagliette Perché mi dobbiamo prendere le multis da power dell'extreme Che mi servono tantissimo perché c'è un sacco di extreme forti ma non stellate Vamono Pescomo una carta verde No il nostro ecco va benissimo Ok ragazzi quella verde Pescomo un'altra carta A posto Blast frate no bell Anche se non mi senti Bravissimo Bravissimo un corno perché la blue si attiva la solo veramente Quindi Va bene che non sia un match finito no? Sì No Di sì qui sento Ammazzato tu perché c'è una carta verde Brava brava Prossimo match Cioè prossimo Hope Balla B hanging Balla Attraversi Chi sei? Spè! Minchia raga, proprio al limite l'ho preso Vamos, due perfect di fila Questo è il match finito Alla prossima Allora raga, questo corpo Posso vedere anche un po' come funziona Questa Feximo di Tardos Visto che finora un corpo non l'ho mai incontrata Verde, mi manca una carta Bella, l'animazione è bella È fighissima l'animazione della Rush Oggi raga, non vedo di parlare Sapete quanto è bello Un altro terzo perfect di fila Raga, ma cosa succede oggi? Vai, ultimo coop Ultimo match Abbiamo fatto con Kurt Estinto Gogeta Le Tardos Ora con Goku terzo Per concludere la verbana Sì, magari se mi prendo la carta Dai, ripiego Se prendiamo il quarto blast di fila Il quarto perfect è bellissimo raga No, peccato Bello, bello Perché Lo fighissimo Se prendiamo il terzo perfect di fila E il quarto perfect di fila Volevo dire Ok Non abbiamo fatto il quarto perfect Però abbiamo finito lo stesso Amici Questo video è finito qua Ditemi che ne pensate di questa coop Ditemi che cosa ne pensate di questa Da parte dell'anni Visto che raga fra... Se per giù non uscirà il Gito Ultra Fra quasi cinque giorni Finirà la seconda parte Inizierà l'ultima parte dell'anni Ditemi che ne pensate Detto questo Alla prossima Bella Alla prossima Alla prossima